Ospite di che tempo che fa, la bellissima Lady Gaga ieri 14 novembre 2021 è stata accolta molto bene, un ingresso davvero epico per lei, per questa star di tipo mondiale del poppo. Nelle noti della canzone Born This Way, un abito di tipo maculato, capelli lunghi sciolti, la bella attrice e cantante è stata ospite proprio di Fabio Fazio per parlare della sua ultima opera cinematografica, ossia House of Gucci, in cui va a interpretare il ruolo di patrensia religione. È stato presentato, vi ricordo, questo film già in anteprima e uscirà al cinema il 16 dicembre 2021, tra un mese o poco meno di tempo. Insieme al covottore, proprio Lady Gaga ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, tra canzoni, premi e performance davvero sublimi, gesta epica, azzardo a dire, Lady Gaga non è rimasta estranea a quello che ha visto, con un volto infatti ricco di lacrime e una voce piuttosto concitata, ha detto Penso alla mia famiglia, amata, che vede queste foto, queste immagini, spero di rendere tutti orgogliosi. Un legame molto speciale, indissolubile, quello che la di Gaga ha con la sua famiglia, che ha origini italiane. Mi nonno Giuseppe era poco forte, era un calzolaio. Angelina e non Angelina erano sposati per tutta una vita. E le volte che parlo con lei, adesso è il ciega, le chiedo cosa ha fatto durante il giorno. Lei risponde, sono ancora qui, penso sempre al tuo amato nonno. Quando ho girato la pellicola House of Gucci, ho pensato a loro, a come sono stati vicini, per insegnarmi ogni cosa. Il legame con il nostro paese d'Italia si è andato a rafforzare durante le riprese fatte in totale pandemia proprio di House of Gucci. E la stessa radicale, a proposito d'Italia, avrebbe detto, io amo il paese d'Italia, mi sento bella, qui mi sento apprezzata, le donne sono curate, le unghie vestiti, i capelli, sono donne davvero stupende. E la pasta al pomodoro, chiede Fabio Fazio, l'hai mangiata? Sì, certo che l'ho mangiata piccola, mi portavo una domenica mattina in chiesa, nel pomeriggio preparavamo il sugo e la pasta, polpette e salsiccio. Insomma, l'icona della musica per eccellenza non si risparmia e risponde a tutto quello che Fabio Fazio gli va a chiedere. Beh, un video importante quello di oggi per dirvi che Radicale ha fatto una figura epica ieri 14 novembre 2021, a che tempo che fa? Iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate. Ciao a tutti, al prossimo video.